Parliamo di CRM, gestione dei database, newsletter, eccetera. Secondo la nostra ricerca che cosa fa e che cosa vuole il consumatore? La grande maggioranza dei nostri consumatori, il 92% è iscritta a un sito aziendale, il 60% è iscritto a una newsletter e il 49% manda email ad aziende per segnalazioni e suggerimenti. Insomma, il 97% del campione, per cui la totalità, ha una vicinanza proattiva verso il mondo internet. Il 68% ci dice quando io sono iscritto a un sito, mi sento decisamente più vicino alla mia azienda. Quindi l'essere iscritto a un sito, ricevere una newsletter, il poter avere il contatto diretto fa sì che la relazione fra consumatore e azienda sia decisamente più vicina. Che cosa si aspetta di trovare un consumatore quando si iscrive a un sito e soprattutto quando su questo sito ha un'area riservata, un'area dedicata solo a lui? Se così si esprime, così deve essere. Quindi devo trovarmi promozioni esclusive, prodotti esclusivi, devo sapere le cose in anticipo, devo navigare un po' come fossi dentro la mia azienda che fa cose speciali a me dedicate, anticipazione sui saldi, partecipazione a riventi, possibilità anche di chattare con qualcuno che mi dia dei consigli personalizzati. Quindi il sito deve essere qualcosa che parla direttamente a me e che ha delle zone riservate a me. Vedete come il consumatore ha un contatto con l'azienda, qui ovviamente quando facciamo le interviste si parla sempre di percepito, poi se andassimo forse a analizzare i numeri in dettaglio scopriremo che così non è, ma la percezione del consumatore è che mentre le aziende si rivolgono a lui nel 50% dei casi, il consumatore si rivolge all'azienda in modo attivo nel 63% dei casi. Cosa vuol dire? Vuol dire che comunque il mezzo non è per nulla saturo, anzi il consumatore vuole essere contattato dalle aziende. E come vuole essere contattato? Vediamo per email che sicuramente è il mezzo preferito e poi vediamo questo 29% del telefono che forse fa un po' stupore, ma sta crollando agli ultimi posti come mezzo di contatto gradito, mentre per contro aumentano gli sms e gli mms. Quindi il desiderio di essere contattato e di essere contattato frequentemente. Anche qui quando parliamo di newsletter, beh in termini di newsletter o di sito dedicato, le attese dei consumatori sono pressoché analoghe. Vogliono essere aggiornati sulle novità, vogliono avere vantaggi utilizzabili anche nei negozi tradizionali. Vi ricordate? Qui ritorna il ciclo d'acquisto, no? Molto mi informo su internet, ma poi vado a toccare, a innamorarmi della poltrona fra o in negozio. Quindi comunque voglio anche su internet trovare un legame con i negozi tradizionali. Deve farmi sentire parte di un gruppo. Se io sono iscritto alla newsletter, devo in qualche modo sentire che fanno qualcosa per me e che è qualcosa che sia pensato direttamente per me e con cui io possa interagire. La frequenza di invio della newsletter desiderata è ogni 15 giorni. Anche qui credo che le aziende forse oggi fanno un po' meno, sono un pochino meno presenti di quanto non vogliano i consumatori. Questo ogni 15 giorni è una frequenza molto alta per ricevere informazioni dalle aziende a cui si è iscritti. Bene, abbiamo visto che cosa sono le aspettative dei consumatori in termini di relazione con l'azienda e adesso vediamo invece come agiscono le aziende nella relazione con il consumatore. Beh, anzitutto qualsiasi attività di CRM che si rispetta parte dalla gestione del database, dalla creazione alla gestione del database. In effetti il 66% delle aziende utilizza il database. Il 68% invia la newsletter per cui dobbiamo immaginare che c'è qualche azienda che invia la newsletter in maniera indifferenziata a tutto il proprio database. E un sito extranet, quindi un'area riservata per i propri clienti, è utilizzato dal 42%. In totale abbiamo visto che il CRM rappresenta l'86% degli strumenti di business utilizzati dall'azienda. Per cui dopo il website è assolutamente l'attività più importante che fa l'azienda sul web in chiave di e-business. Bene, allora stavamo valutando il database, diciamo che la creazione del database vale l'87% degli utilizzatori. Stranamente solo il 55% crea un database dei propri iscritti aziendali e qui bisogna dire che nella realtà lavorando con le aziende ci si rende conto che molto spesso in azienda esistono diversi database, database clienti, anagrafiche, iscrizioni al sito che difficilmente si riesce a far dialogare assieme, per cui anche se il dato sembrerebbe un po' distonico in realtà le difficoltà poi in azienda sono piuttosto concrete. Comunque è evidente un'area di miglioramento per l'azienda in questo senso. Soprattutto è molto importante comunque profilare, segmentare la clientela presente nel proprio database e questo lo fa il 67%. E poi abbiamo la fase di contatto. Interessante valutare il contatto che le aziende portano a compimento rispetto alle attese dei consumatori. La mail è il canale privilegiato e abbiamo visto che in effetti anche i consumatori nell'87% dei casi contro il 90% desiderano la mail. Il contatto telefonico che tuttora rimane un strumento molto importante per le aziende, il 53%, in realtà è poco gradito ai consumatori, solo il 29%. La posta tradizionale è più o meno in linea con le attese, mentre è molto interessante l'utilizzo degli SMS che sembrerebbe essere una modalità di contatto maggiormente desiderata dai consumatori rispetto a quanto fatto dall'azienda. Interessantissimo è poi la richiesta di MMS che a fronte di un inizio del 4% ha un desiderato del 25%. Relativamente alla frequenza di invio delle newsletter, le aziende ci dichiarano una volta al mese contro un desiderato di due volte al mese. Anche qui sicuramente spazio per migliorare. A livello di contenuti, le aziende utilizzano le newsletter per comunicare novità sui propri prodotti e servizi, coerentemente con le attese dei consumer. Informare su attività e eventi dell'azienda, anche in questo caso siamo in linea. Mentre l'utilizzo come promozioni e sconti o altre attività commerciali da fruire sul punto di vendita viene utilizzato dalle aziende soltanto nel 51% dell'utilizzo, mentre i consumatori si aspetterebbero questa come in realtà il vero contenuto di loro interesse nel ricevere una newsletter aziendale. Ecco, questo sicuramente è un buon punto di riflessione per tutti noi nel momento in cui sviluppiamo una newsletter di cercare di introdurre degli elementi commerciali che possano essere fruiti, come vediamo, sia sul punto di vendita ma anche online, che sono sicuramente la richiesta che il consumatore sembra volerci fare nel suo dichiarato. Per quanto riguarda invece l'area riservata del sito, ancora una volta la personalizzazione e l'esclusività dei contenuti che Simona ci ha illustrato essere la richiesta principale del nostro consumatore, si scontra un po' con un comportamento aziendale che non è molto in linea. Ancora una volta la richiesta di avere un trattamento commerciale dedicato è molto sotto le attese dei consumatori. Interessante anche il discorso del dialogo, Simona prima parlava di chat con l'azienda, in questa chart si parla di assistenza tecnica al cliente, è comunque un'altra area su cui probabilmente possono essere fatti dei passi avanti interessanti da parte dell'azienda. Grazie.